Quanto dobbiamo ancora aspettare? Ci vorrà una vita oggi! Ce l'ho fatta! Fa così caldo fuori che quando sono uscita la bottiglia era piena! Fatevi da parte, consegna dell'acqua! Ehi, mettiti in fila! Attenta! Oh no! Ora dovremo asciugarci! Buon pomeriggio! Oh, vi siate trasformate! Entra piccola, non essere timida! Cosa? Sono tutte sirene! Oh, questo spiega molte cose! Quindi sei solo una ragazza normale? Ma hai visto il cartello? Pensavo che contasse solo quello che c'è dentro, non fuori! Oh, wow! Che cos'è? Wow, ma dove sono? Vediamo! Oh, che cos'è? Lasciami andare! Wow! Riesco a sentire l'odore dell'oceano! Oh, il mio orecchio! Che ti fa in casa mia? Chi sei? Non lo so! Non sembri proprio una sirena! C'è qualcosa sul tavolo che ti farà sembrare più bella! È per me! Grazie! Mettiamolo qui, così riusciremo a vederlo! Oh, hai ragione! È chiaro a tutti che non sono una sirena! È ora di sbarazzarsi dell'acne! Forse qui c'è qualcosa per me? Perfetto! Un massaggiatore per il viso! Wow, quante modalità! Con la schiuma sarà ancora più efficace! Proviamo! Che solletico! Oh, non mi sfuggirà neanche un brufolo! E ora laviamola via! Ops! Sul naso è rimasto! Ah, che bello! Ora la mia pelle è morbidissima! Ma è ancora molto secca! Mi sento come una lucertola che si libera dalla sua pelle! Che schifo! Non riesco a guardare! Conosci un modo migliore? Sebastian? Dove stai andando? E cos'è quello? Lumate? Il pavimento è troppo freddo! Potresti prendere un raffreddore e vieni da me! Non ti dispiace camminare sulla mia faccia, vero? Oh, siete più pesanti di quanto pensassi! Bene, la passeggiata è finita! È ora di toglierle! Wow! Questo è il miglior salone di bellezza! Grazie, tesorine! Parlerà di voi a tutti i miei amici! Cos'è questo rumore? Oh, è il mio stomaco! Non mangio nulla da stamattina! Devo ordinare qualcosa! Consegni a domicilio? Spero che siano veloci! Oh, come sempre! Grazie! Vediamo cosa ho ricevuto! Ottimo! E c'è anche per Sebastian! Oh, credo che anche lui abbia fame! Ok, è tutto! Buon appetito! Oh, posso di poterlo usare! E ho un'idea di come usarlo! È un bene che io abbia sempre con me il mio fondotinta! Mettiamone un po' su questa pellicola trasparente! Ne basteranno un paio di gocce! Ecco un lavoro per te! Strofina il materiale con il dito! Possiamo aggiungere un po' di rossetto! Perfetto! Sono pronta! Devo solo usare lo stencil! Ehm, spero che funzioni! Oh, aria fresca! Devo controllare! Ah, sistemiamolo subito! Spumiamo il tono con una beauty blender! Fantastico! Penso di essermelo meritata! Oh, scusa! Non ho resistito! Era delizioso! Ma che trucco fantastico! E adesso io che mangio? Ci risiamo! Ok, sono pronta a passare al trucco! Penso che sarà divertente! Voglio che anche le sirene pensino che sono una sirena, quindi disegnerò le squame! Ora lo riprendo! Ehi, cos'è quello? Sebastian? Ti stai annoiando? Come faccio a sistemarlo ora? Non vuoi giocare? No, sto cercando di essere una sirena! Perché non l'hai detto subito? Allora prendi questo! Grazie! A che serve? Oh, ci sono! Posso usarlo per creare il modello perfetto! Perché non ci ho pensato prima? Ok, ci siamo! Controlliamo il risultato! Oh, wow! Sembrano squame reali! Grazie, Sebastian! Credo che questo restyling mi faccia davvero bene! Guardate come sono cambiata! Oh, che cos'era? Mi sono spaventata tantissimo! Credo di avere un attacco di panico! Devo chiamare la dottoressa mia? Devo rispondere? Dottoressa, sono Caroline! Cosa devo fare? Sshh! Devi darti una rinfrescata! Ti ho fatto uno scherzetto! Perché mi sta facendo questo? Perché non hai usato un telefono da sirena per chiamarla! Oh, giusto! Sembra che non sia solo io ad aver bisogno di uno stile diverso! Meno male che sono pronta! Con che colore inizio? Col blu? Sì, è il colore dell'acqua! Agitiamolo e aggiungiamo la vernice all'acqua! Fantastico! Più colori aggiungiamo e più sarà luminosa! Wow! E ora la parte più importante! La full immersion! Prendiamo la custodia del telefono e la mettiamo in acqua! Molto lentamente! Non vogliamo danneggiare lo strato con lo spray! È ora di tirarla fuori! Wow! Non avevo mai visto una cosa del genere in vita mia! Ora tutte le sirene saranno invidiose! Loro non hanno di certo un adesivo del genere! Si abbina perfettamente! E ora un piccolo trucco! Mettiamo la parte morbida sulla coda! Ariel! Dovresti mangiare un po' meno crocchette di pesce! Porte! Sebastian, hai visto? Oh! Spero che tu non sia impegnata stasera! Ehi, calmati! È solo un giocattolino! Mi sto avvicinando al mio obiettivo, ma ho ancora bisogno di una coda! Oh! Ho un'idea! Posso realizzarla da sola? Di sicuro c'è qualcosa che posso usare! Oh! Forse mi tornerà utile! Non essere timida, copertina! Presto diventerai una vera coda di sirena! Avvolgi le tue gambe in una coperta! E poi che facciamo? Ovviamente ci mettiamo del nastro adesivo! Mettiamoci al lavoro e... Fatto! Ti piace, Sebastian? Non riesco a guardare, sto per piangere! Ma non è finito! Pensi che mi sia dimenticata delle pinne? Ora va molto meglio! Che ne dici? Sembro una sirena? Per favore, toglilo e non mettermi in imbarazzo! Ho portato qualcosa che ti aiuterà! Wow! Sembra una bara con una pinna! Ma ci proverò lo stesso! Prima lo tagliamo con attenzione! Fatto! Ed ecco la pinna! Troom, troom, trick! Sebastian, sei un genio! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Adoro questo outfit! Che colpo di fortuna! Ti piace la mia coda? Sì, lo so! La coda può fare la differenza! È ora di pensare agli occhi! Vediamo cosa abbiamo qua! Oh ah! Trovato! Il rosa è una pessima scelta! Forse c'è qualcosa nel mio portamatite? Oh, il verde! Si abbina alla mia pinna! Caroline, la spazzatura dovrebbe andare nel cestino, non sul tavolo! E se sei davvero una sirena, dovresti avere una borsetta adatta? Sì, lo so! Puoi aiutarmi a crearla! Per prima cosa, segniamo le parti della nostra borsa su un cartoncino e ritagliamo! È il momento del pomeran colorato! E proviamo anche questo gadget! È una foratrice con le forme! Farà dei cuoricini! True trick! Oh, l'adoro! Il prossimo passo è ritagliare una coda di sirena dalla carta da disegno! Aggiungiamo una decorazione! Ora possiamo incollare la cornice con la colla a caldo! Facciamo il giro dei bordi e mettiamo insieme la nostra cornice! Oh wow! È un colore intenso! Proprio quello che mi serve per la mia borsetta! Decoriamo il lato anteriore con i cuoricini che abbiamo ritagliato e aggiungiamo elementi a tema marino! Guardate, sono allineati proprio come le squame! È venuto benissimo! Wow, questo è un vero tesoro! Posso che sarei una grande stilista! Oh, un nuovo video di Troom Troom Trick! Sono così contenta di aver cliccato sulla campanella! Li adoro! Wow, è fantastico! Devo provarlo! Mettiamo un ombretto argentato in questo modo e dei brillantini! E poi mettiamo un eyeliner del colore dell'acqua! E... fatto! Penso che un paio di perline e conchiglie saranno perfette! E ora sfumiamo! Più grandi sono le mie ciglia, meno ho bisogno delle pinne! Ecco fatto! Allora, ti piace questo beauty hack? Penso sia venuto davvero bene! Non posso credere di essere ancora io! Sono così bella! È incredibile! Fammi entrare! È il momento del pranzo! Oh! A che servivano tutti quei preparativi? Credo di avere un'idea! Ti raggiungerò, dottor Mia! Oh! Quante ragnatele! E... Ciu! Oh! No! Sembra che sia nei guai! Devo sbrigarmi! Oh! Oh! L'allarme! Sembra ci siano dei parassiti! Va bene! Mi sbarazzerò di voi! Attenzione! Vi catturerò velocemente! Che succede? Qualcuno ha acceso l'aria condizionata? Ok, ora basta! Oh! Beccata! Non puoi nasconderti da me, Ursula! Non puoi ingannarmi di nuovo! Prendi questo! Ti odio! Dove sono le mie freccette? Oh! Questo è ancora meglio! Dritto al bersaglio! Non devi scherzare con me! Sì! Prego! Dottoressa, passo! Lo sai che è una grande lanciatrice? Che cos'ha qui? Un tridente! Posso prenderlo! Smettila! È un ferro a ricciacapelli che c'è che non va in te! Si vede che però ne hai bisogno! Davvero? Beh, grazie! Presto avrò dei capelli mossi come quelli di una vera sirena! Wow! Fantastico! Ma so come migliorare ulteriormente le cose! Così! Una coroncina di corallo ci starà perfettamente! E ora cerca di indovinare chi è la nerd e chi è la regina dei mari! Oh! Le mie piccole perle! La mamma non vi lascerà mai! Siete i miei tesorini! Ok! Tornate nella borsa! Qui sarete al sicuro! Dormite piccoline! Ok! Che c'è in programma? È ora di pranzo! Di già! Ah! Ehi! Stai fermo! Dove vai? Chi è il bravo pesciolino? Oh! Sembra ci sia cascata! L'ho quasi preso! Non scappare! Non voglio offenderti! Ok! Basta! Per fortuna ho una mano che mi aiuta! Dai! Aiutami a prendere qualcosa! Bene! È stata una grande pesca! E ora passiamo alla fase finale! Il trucco ce l'ho! La conciatura anche! E anche la coda! Cosa possiamo aggiungere? Ok! Non c'è nessuno! Posso farcela! Spero che Sebastian non mi veda! È tutto libero? Se qualcuno mi vede, sarà nei guai! Ok! Proviamo! Vitamine! È ora di buttarle via! Wow! È quello che mi serviva! Filo da pesca! Farò i gioielli più belli! Prendiamo le perle e mettiamole su un filo! Chiudiamolo e... Voilà! Wow! Che bellezza! Ora sono una vera sirena! Vedete? Anche una ragazza così comune può trasformarsi in una principessa del regno sottomarino! Caroline! Sì? Immagino che ora potrò avere un appuntamento! Oh! Ma certo! Lascia solo che ti guardi meglio! Oh! Non posso crederci! Una tiara di corallo è un trucco stupendo! E questa coda è un vero sogno! Wow! Dove hai preso tanta bellezza? E questo anello dell'ultima sfilata di Gucci? Stai scherzando? No, no! Dai! Sta scherzando io! Seguimi! Topo di biblioteca! La biblioteca è dall'altra parte! Ma io sono qui per la dottoressa mia! Probabilmente non lo sai, ma... Io lavoro solo con le sirene! Torna quando sarai cambiata! Trum trum trick! Do tre stelle su cinque a questo parco acquatico! Gli attivisti del clima lo sanno? Ehi! Ci sta parlando! Forza, andiamo via! Megan, facci uscire! Hai finito di truccarti? Sì, grazie! È così accogliente qui! Vado anch'io lì! Ok, siete libere! Buona giornata, Megan! Ciao, ciao! Ehi, dove stai andando? Devi restare dietro le sbarre! Ma perché? Perché questa è la prigione della bellezza! Va bene per le sirene, ma è un incubo per i nerd! Attiviamo la serratura principale! Non potrai scappare! Oh, che giornataccia! Perché sono così sfortunata! Wow! Che cos'è? Beh, visto che sono in prigione, è il momento di farmi un tatuaggio! Spero che sia temporaneo, come il mio soggiorno qui! E ora usiamo la macchina! Bip, ha funzionato! Ora sono cento volte più bella! Ma non sono ancora una sirena! Puzzle! Un ottimo modo per passare il tempo! Ma dov'è il pezzo? Trovato! Non l'avevo visto! Sembra un tesoro dei pirati! Toc, toc! C'è qualcuno? Wow! Ha trovato un tesoro! Dov'è l'oro? Wow! Ci sono solo gadget di bellezza! Per te quello è oro! È la chiave della tua libertà! Grazie, Sebastian! Cos'hai qui? Ho capito! È un piano per diventare una sirena! Che bello! Finalmente so come fare! Molto intelligente! Beh, è ora che questo bruco diventi una farfalla! Ma dov'è Megan? Qualcuno ha esaurito la batteria! Dov'era rimasta? Per prima cosa, liberiamoci dall'acne! Le sirene hanno sempre una pelle idratata! Sebastian, credo stia funzionando! E ora leviamo un po' di nerditudine! Cosa? La pubblicità non mentiva! Il 99% dell'acne è sparito e il resto lo toglierò da sola! Oh, mi hai spaventata! Potresti camuffarlo? Certo! Deve esserci qualcosa nella scatola! Avevi ragione, Sebastian! Adoro la body art! Spero che funzioni! Fatto! È ora di fare un test! Ce l'abbiamo fatta! Parte! Che bellezza! Riesco a pronunciare male con questo apparecchio! Togliamolo! Aiuto! Qual è il prossimo passo? Ah, Megan si sta ancora caricando! Questa è la mia occasione! Non posso lasciarmela scuggire! Penso che violerò il sistema! Ops! Sembra che il server sia fuori uso! Devo sistemare tutto prima che Megan si svegli! Ehi ragazzi, potete aiutarmi? Qual è la giusta sequenza della serratura? Scrivetelo nei commenti o Megan non mi farà uscire! Conto davvero su di voi! Grazie mille! Ops! Cosa? Chi ha rovinato i miei sogni? Ok! È ora di mangiare! Nerd! Megan, oddio! Il tuo cibo! Buon appetito! Aspetta, non riesco a farlo passare! Ah, strano! Ma che cos'è? Ho un'idea! Frullato di alghe e cavolo nero! Almeno potrò postarlo su Instagram! Penso che basti! Accendiamo! Oh, avanti frullatore! Fammi fare un rodeo! Fatto! Ho avuto una bella idea brillante! Cerotti naturali! Fantastico! E ora raffreddiamoli con un po' di alito gelido! Così rinfrescante! Sono sotto zero! E ora proviamoli! Ah, sono fantastici! Ah! È il momento di toglierli! Che sollievo! Wow! Sono bellissima! Sebastian, ti piace la mia trasformazione? Ottimo gusto! Sei perfetta! Non ti interessa, eh? Non vedo cambiamenti! Ehi, lasciami in pace! Mi hanno dato la mia nuova borsetta! Non vedo l'ora di aprirla! Peccato che non abbia le forbici! Wow! Proprio come nella pubblicità! C'è qualcos'altro? Wow! Il secondo tesoro della giornata! Forse sarà una perla! Ehi, lasciami uscire da qui! Forse dovrei tirare lo sciacquone! Ora lo scopriremo! Splash! Oh! Si è aperto! Wow! C'è una sirena qui! Quanta acqua! Sembra che ci sia qualcos'altro! Wow! Una bella spazzola per capelli! Come quella di una vera sirena! Wow! Sebastian, ti piace la mia acconciatura? Oh mio Dio! Credo che una tiara ti starebbe benissimo! Lo pensi davvero? Grazie! Sei il migliore! Che ci devi fare con quella? Che vuol dire? To singa one to one! Cosa? Mille undici! Codice attivato! Passiamo alla modalità stand-by! Cosa? È la chiave del mio cellulare! Devo prenderla! Dovrò fare un po' di stretching! Le mie mani di spaghetti arrivano ovunque! Sì! La mia bambina! Falle vedere! Grazie per il supporto! Forza! Ci sono quasi! Ancora un po'! Oh! Ci sono quasi! Oh! Ce l'ho fatta! Non posso credere di averla raggiunta! Mammi mi ha distratta! Ma ora scapperò per sempre! Non avrò più bisogno di questa chiave! Oh no! Ehi! Aiuto! Aiuto! Sebastian? Come sei finito lì? Vieni da me! Hai rovinato il mio baldacchino! La prossima volta ti trasformerò in un bastone! Volevo solo ripararlo! Era una bella idea! E potrebbe essere interessante! Rimuoviamo quello che non ci serve! E aggiungiamo delle decorazioni! Ottimo! Colleghiamole! Esattamente quello che mi serviva! Cos'altro amano le sirene? Perle e conchiglie! Wow! È stupendo! Troom troom trick! Questo top mi sta benissimo! E questi braccioli mi aiuteranno a non annegare! Oh! Sono proprio una bellezza! Megan! Sono o non sono una sirena! Confrontiamo l'identikit! Assolutamente no! Un attimo! Lasciami andare! Sebastian, cos'è? Non ti faranno uscire senza una coda! Hai capito? Bene! Allora so come devo fare! Ho visto qualcosa! Ed ecco la mia coda! Ogni sirena conosce il trucchetto dell'acqua! Aggiungiamone un po'! Ho funzionato! Ora di sicuro sarò libera! Guarda! Posso battere le mani e la coda allo stesso tempo! Fantastico! Hai visto la mia coda? Bene! Vediamo se funziona! Sono pronta! Allora trattieni il respiro a topo completo! Wow! Cavalca quest'onda, Sebastian! La cavalco! È come essere a gravità zero! Ti ho preso! Non andare troppo lontano! C'è un alluvione! Lo scarico deve essere ancora intasato! Oh! Sta volando! Non c'è di che! Ehi! Ma che è stato? Sebastian! È tutta colpa tua! Oh no! Il mio cuore! Aiuto! Cos'è questo suono? Vado a controllare! C'è cascata! Oh! Mi sento in colpa! Scopriamolo! Non ne hai idea! Oh! Mi sento malissimo! Ok! Ti aiuto io! Vediamo che c'è qui! Non servirà! Ah! Il mio talento recitativo mi ha salvata! Ah! Non mi prenderà mai! L'ho trovata! La migliore medicina! No! Per favore! Sono sana! Torno al sicuro! Ricorda che ho una cura per ogni malattia! Le sirene hanno le squame e io ho un diploma in arte del make-up! Non è la migliore maschera per una rapina, ma è un ottimo stencil! Ora va meglio! Non tutte le sirene ce l'hanno, vero? Sebastian? Sei fantastica! Grazie! Vediamo che resta! Il trucco è fatto! Oh! Le branchie! Ma dove posso trovarle? Ho un'idea! Spero che oggi sia il mio giorno fortunato! Beh, rischierò! Spero davvero che funzioni! Woohoo! Jackpot! Ed ecco la mia vincita! Quanti dollari sono? Ah! Giusto! Non sono dollari! Qui le conchiglie valgono di più! Bene! Allora usiamole! Questo andrà bene! Ora facciamo il contorno! Fantastico! Scegliamo dei toni marini! Le mie branchie avranno un disegno speciale! Che ne pensi? Ora è il mio preferito! Oh, che belli accessori! Solo le principesse ce li hanno! Troom troom trick! Le mie branchie sono pronte! Allora chi è la nerd ora? Hai ragione, Sebastian! Nemmeno io mi riconosco! Vi prego, non fatelo! Ehi, ci hai schizzati! Sono solo un bidello! I bambini sono così cattivi! Cattivi, cattivi! Ciao! Fatemi uscire! C'è una regola qui! Solo le sirene possono uscire! Ok, penso di potercela fare! Spero che questa coda non mi faccia sembrare grasso! Tutte le parti sono aperte per questa sirena! Megan! Sembra che ci sia un sireno! Devo farlo uscire! Vuoi aprire? Certo! Vai pure! Grazie! Spero di non vederti mai più! Anch'io! Un attimo! E io? Lui ha solo una coda! Ma io ho tutto! Beh, era un po' matto! Fammi uscire, ti prego! Ho bisogno delle unghie ma non c'è un salone di bellezza qui! Wow, Sebastian! Un timbro adesivo! Forse funzionerà! Grazie mille! Chissà come verranno! Wow! Hai visto? Certo! Le ho scelte io! Sei il migliore! Non posso crederci! Sono davvero io! Non pensavo che il carcere mi avrebbe cambiato tanto! Ora sono una vera sirena! Ho completato tutti i punti! È arrivato il momento! Megan, puoi venire! Che vuoi? Ricordi la regola principale! È arrivato il momento per questa sirena di andarsene! Oppure non pensi che sia una sirena? Ok, puoi andare! Aspetta! Non andrai da nessuna parte! Oh, per favore! Guarda, ha anche la coda! Brucerà per la vergogna! Ma adoro gli unicorni e le conchiglie! Lui sarebbe una sirena! Programma fallito! Riavvia! Riavvia! Megan, ma che succede? È strano! Nerd! Sirena! Granchio sirena! Aperto! Bene! Ora nessuno mi butterà più nel water! Wow! È così bella! Incredibile! Oh, e tu chi saresti? E tu chi sei? Sei un pesce marcio? Stai parlando con me? Ti tiro nello sciacquone! Trum trum tric! No! Wow! Davvero forte! Riavvio completato! Che giornata! Sono stata inviata qui per informarti che le regole sono cambiate! Che significa? Ridammelo! Non si discute con la gente mercoledì! Ok, basta! Preparati a perdere! Cos'è? Sembra un mini tunnel! Forse è per gli scarafaggi! Credo di sapere cosa fare! Una di noi deve soffiare lo scarapaggio verso l'avversario! Pronta a mangiare insetti mercoledì? Attenta a non soffocare, Megan! No, 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 no! Oh! Ho qualcosa di incastrato tra i denti! Ok, ora tocca a me! Oh! Wow! Ora siamo pari! Ma lo scarafaggio è davvero gustoso! Vediamo che succede nel prossimo turno! Vai! Ok, e cosa ottengo? Oh! Così piacevole! Lo sarà ancora di più quando saranno pieni! Bene! Lo sapevo! Credo ci sia abbastanza Coca-Cola da riempire una piramide! Lascia che ti aiuti! Potresti rovinare tutto per sbaglio! Non potrei mai fare peggio di te! Ok, sarò io la prima! Non avevo mai provato questo prima d'ora! Non posso lasciarla vincere! Non speracci nemmeno nella vittoria! E... Complimenti per la tua perdita! Oh! Gustoso! Non riesco più a bere! Cosa? Ti stai già arrendendo! Ah! Ho fatto bene ad installare questo tubo! Giusto in tempo! Allora? Un altro bicchiere? Uhuh! Scommetto che non hai idea di cosa stia succedendo! Come fa a berlo? Sette, otto! Un altro paio di bicchieri! Ok, prendo anche l'ultimo! Questo giro è mio! Credo di sapere cosa sia questa sfida! Avremo bisogno di questi oreo per partecipare! È una specie di gioco del curling! Guarda e impara! Vediamo cosa ha colpito! Salsa piccante! Poteva andare peggio! Pensate davvero che sia un problema? Oh, facile! Ma speravo in uno scarafaggio! Uh! Gustoso! Ora tocca a te! A questo punto starei già andando a fuoco! Beh, se sei tanto debole! Vado a fuoco! Ok, tocca a me! Cosa? Cosa ho colpito? Oh! Maionese! Di sicuro non otterrebbe una stella Michelin! Ma la consistenza? Che strano! Toccammi! Oh, sembra che abbia scelto un topping! Cosa ha questo odore? È inacidito? No! Io passo! Oh, sembra che io abbia vinto di nuovo! Cosa è? Ok, mercoledì! Sei fuori dalla competizione! E ecco che arriva la mia Barbie preferita! Iniziamo! Pensi di essere forte! Sei solo la mia copia! Sono migliore di te in tutto per tutto! Lo vedremo! Oh, rinfrescante! Ecco i coriandoli per la vincitrice! Non è il momento di festeggiare, Megan! Oh, cosa? Mi stai prendendo in giro? Aspetta! È tornata la nostra padrona! Barbie, da dove vengono tutte queste piume? Torna indietro! È stata Megan! Devi essere molto annoiata! Facciamo una sfida! Te lo dimostrerò una volta per tutte che sono la migliore! Spero che sia qualcosa di dolce! Evviva! Vieni dalla mamma! Sarete il vero gioiello della mia vittoria! Anche il mio metabolismo è migliorato! Oh, io non ne ho uno! Vediamo che mi riserva la ruota! Non è giusto! Ma va bene così! Ho fatto di peggio! Beh, un'altra ottima ricetta! Buon appetito! E tu, Barbie, l'avresti mangiata? La mangerò tutta! Guardami! Mi sento male! Passiamo al prossimo turno! Un nuovo gusto! Kiwi e panna è il migliore! Se tutte le sfide consisteranno nel mangiare torta, non hai alcuna possibilità! Non osare dubitare di me! Sono pronta a tutto! È una fragola! Che razza di giornata è questa? E va bene, mettiamoci la senape! Oh, deliziosa! E sembra anche salutare! Facciamolo! Oh, fa caldo qui dentro! Sei pazza! Andrei a fuoco! Oh, sei solo gelosa! Che altro posso fare? Oh, ci sono! Non c'è mai abbastanza panna montata? Che carino! E ora vediamo chi di voi due è più veloce! Non hai nessuna possibilità! Oh, che paura! Oh, cosa? Ridi finché puoi! Vediamo se riderai anche adesso! Richiesta di connessione! Richiesta di connessione successo! E ora voglio la rivincita! Ok, ti darò un'altra lezione! Ehi, che succede? Non male, eh! Hai organizzato tutto tu! Mi lamenterò! Lo farai dopo il prossimo round! Sì, questa storia ha bisogno di un drink! Dov'è la mia lattina? Wow! Spero di essere fortunata! Non c'è di che! Grazie! Ne sceglierò uno anch'io! Ha consentito? Non posso rimanere indietro! Sarà divertente! Matta, dove comincia? Oh, ci sono! Devo farlo prima di Megan! Un sorso di delizia! Quanti litri mancano ancora? Oh! Ha già finito! Forza, forza, Barbie! È stato fantastico! Sono un robot ecologico! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti! E ci vediamo la prossima volta!